Una giornata di celebrazioni per ricordare il titolo di città conferito nel 1991. La Domenica di Monte San Savino ha assunto il colore della festa per ricordare un momento fondamentale nella vita del centro della Valdichiana. Il titolo di città che le ha conferito un posto di onore nel territorio aretino. Le celebrazioni hanno previsto una serie di eventi, tra cui un concerto, la cena di gara nel Giardino Pensile del Comune, a cui hanno partecipato le principali autorità della provincia, presenti tra gli altri anche il nuovo procuratore della Repubblica Gian Federica Adito, la presidente della sezione penale Anna Maria Loprete e il vescovo Andrea Migliavacca. Il sindaco Gianni Bennati ha ricordato il senso e il valore di questo titolo, ha intrattenuto gli ospiti con una serata che ha offerto una cena di gara con molte specialità del territorio. Al termine l'apertura della porta, che ha significato il rinnovo del conferimento del titolo, momento importante e voluto dall'amministrazione comunale, che ha fatto per un giorno di Monte San Savino la città più in luce del nostro territorio. Soddisfatto è il sindaco che ha applaudito alle mille iniziative ideate per sottolineare una giornata di festa. I fuochi d'artificio hanno chiuso una domenica che Monte San Savino di sicuro ricorderà. L'estate sabinese proseguirà con una serie di eventi, in gran parte dedicati alla musica.